Buonasera a tutti, io sono il vice coordinatore del Nucleo Comunale Protezione Civile Città dei Baronissi. Oggi siamo impegnati come assistenza alla popolazione per il Gran Carnevale di Baronissi 2018, una manifestazione sentita qui nella Valle dell'Irno e quindi si prevede un afflusso di almeno 40-50 mila persone. E nell'occasione è stato attivato il COC e quindi noi in retica svolgiamo un'assistenza alla popolazione per evitare ulteriori rischi. La nostra attività non è solo fare assistenza alla popolazione in caso di eventi, ma siamo impegnati a 360 gradi sul territorio. Noi ci occupiamo, iniziamo dai bambini nelle scuole, infatti abbiamo un progetto che è denominato Scuola Sicura, a quale partecipano i bambini delle quarte e quinte elementari, adesso si chiama una scuola primaria del Comune di Baronissi. Queste vengono svolte delle elezioni all'interno dei loro plessi, poi dopo alla fine si concluderà con una visita presso la Norrosede per illustrare ai bambini le buone pratiche di protezione civile. Quest'anno questi progetti sono stati suggeriti da un protocollo di intesa tra noi e il Comune di Baronissi, che alla fine si racchiuderà il tutto in un convegno che si svolgerà presso la Casa Comunale il 7 maggio del 2018. Il nostro nucleo, unitamente al nucleo comunale di Battipaglia e di Cava di Tirreni, sono i tre nucleo più importanti sia per componenti facenti parte della protezione civile nella Valle dell'Irno. Unitamente a loro siamo stati impegnati, anche per il terremoto, purtroppo ha scosso la regione del centro Italia, siamo stati impegnati nell'allestimento e nella manutenzione del campo di prima accoglienza del Comune di Arquata. Allora, noi facciamo parte dell'associazione Insieme Per di Pellezzano, è un'associazione che si è fondata circa tre mesi fa, esattamente a novembre, ed è un'associazione socioculturale che nasce per valorizzare le risorse del nostro territorio e per favorire l'aggregazione soprattutto per i più giovani. Quest'anno abbiamo deciso di riportare il Carnevale a Pellezzano dopo circa dieci anni di assenza, siccome il Carnevale è una tradizione del nostro paese ed è anche un vanto per noi, il tema che abbiamo scelto di presentare quest'anno è Topolini e Paperopoli, non è stato scelto a caso in quanto a gennaio Topolini ha compiuto ben 90 anni e siccome è un personaggio che affascina tutti da sempre, sia grandi che piccoli, ci è sembrato giusto presentare questo carro coinvolgendo appunto tutti dai più piccoli ai più grandi. Infatti i partecipanti al nostro carro sono sia bambini dai più piccoli due o tre anni fino a persone più adulte. A fianco a me ho Nunzia che è un'amica che ci ha aiutato per le coreografie. Siamo un gruppo di amici, ci divertiamo, non c'è competizione ma solo sano divertimento. Benvenuti al Gran Carnevale di Baronissi 2018, siamo presenti come associazione Madre Maria Pia Notari di Capriglia di Pellezzano con il carro allegorico La Leggenda di Tex. Il carro è stato realizzato da un gruppo di ragazzi dai 16 ai 25 anni e porta in scena il mito del personaggio Tex Wheeler nell'anno in cui compie 70 anni dalla sua prima apparizione. Che dire, è sempre un piacere stare qui a Baronissi, quest'anno un motivo in più per festeggiare perché rientriamo come associazione costituente dell'ente Gran Carnevale di Baronissi. Grazie alla città di Baronissi, alle associazioni del territorio di Baronissi che ci hanno permesso il nostro ingresso nell'ente Gran Carnevale di Baronissi. Salve, buonasera, siamo l'associazione Il Gabbiano Cariffi Torello di Mercato San Severino e questa è la quinta e sesta edizione che siamo molto lieti di partecipare al Carnevale di Baronissi. Noi siamo un'associazione di Cariffi e di Torello con molti ragazzi partecipanti a questa manifestazione, un modo per aggregarsi. Questo è il nostro caro, quest'anno abbiamo fatto la sirenetta con molti bambini. Adesso vi do la parola all'amico Gerardo. Noi dell'associazione Il Gabbiano, è il sesto anno che veniamo qua a Baronissi, ben volentieri, di questa sfilata. Ringraziamo tutte le associazioni per questo evento che ci invitano sempre. Adesso parla un po' Gerardo. Allora ringraziamo adesso la nostra presidente Rosa Scolese che lei è la nostra forza, ci sprona su tutto per organizzarci sempre al meglio. Ecco, come ogni anno siamo sempre al top. Quindi un grazie a tutti i collaboratori dell'associazione Il Gabbiano e un saluto a Baronissi. Buonasera a tutti. È l'associazione Sogni in realtà dove sono io del presidente. Mi chiamo Alessandro De Chiara, presidente protempore di questa associazione. Abbiamo creato questo carro denominato Robin Hood. Il carro rappresenta il comune di Baronissi, proprio Baronissi. Perché ringraziamo di vero cuore il comune di Baronissi che ci dà la possibilità di svilare per le strade di Baronissi. Che dire? Ringrazio di vero cuore i progettisti e i costruttori del carro che sono Luca e Roberto. Ringrazio i ragazzi e le ragazze del ballo. Ringrazio la security, i ragazzi che costeggiano il corteo dei balli. Ringrazio anche di vero cuore il nostro trattorista, il trattorista Francesco che si è inserito quest'anno nel nostro gruppo. Grazie di cuore e alla prossima. Salve a tutti, buonasera e benvenuti al Carnevale di Baronissi. Noi siamo l'associazione Alva di Aiello Acquamela. Presentiamo il carro Ghostbuster. Da circa un mese noi abbiamo iniziato questo carro, realizzato completamente su una Fiat 600, con l'insegno dei tanti amici dell'associazione. I balli sono stati curati dalla maestra di ballo Tina Cavaliere e tutti gli amici di Aiello Acquamela sono qui presenti. Grazie a tutti, vi aspettiamo a presto, arrivederci.